vai ok vai 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 va bene lo tiri giù andiamo eh aspetta un po' più lontano devi darti la possibilità di fare passo spinta va bene va bene dai via 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 andiamo eh andiamo andiamo dai mi aspetto che la metti più larga eh dai andiamo va bene va bene tira su lo tira su chi lo tira giù dai andiamo eh via 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 spostarsi dal mezzo eh va bene mi piace va bene Emanuele così bisogna mettersi in difficoltà eh andiamo 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 dai tira su tira su tira su andiamo eh via eh Gabri via veloce da lì via 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 diamo uno via l'altro Ricky se parti attaccato agli ostacoli non puoi aprire e spingere staccati un po' staccati un po' staccati un po' eh a destra bisogna scaldarsi vero pacca dai tranquillo va bene bravo tira sullo ostacolo andiamo eh va bene va bene così mettiamoci in difficoltà eh dai Samu va bene va bene e via subito da lì eh via da lì va bene esagerato va bene va bene andiamo andiamo via uno sotto l'altro eh che siamo tanti dai Ale dai Ale Ale parti troppo vicino per quello che lo butti giù capito perché sei già sotto con la gamba stai più lontano devi darti la possibilità di fare passo spinta quindi stai un metro più in là poi apri e spingi te se te la metti così bassa fai una fatica eh vale anche per te dai via 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 da lì bravo gran parata bravo bravo andiamo 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 forza 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 via 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 uno via l'altro dai troppo tempo non mi piace veloci 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 Ricky se poggi quel piede te lo tronco dai dai bella vai va bene va bene pacca non ti preoccupare eh andiamo andiamo ragazzi andiamo buono 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 va bene va bene larghissima larghissima va bene va bene Guglielmo Guglielmo guarda me la mano così se ti dà l'alto verso il basso fai fatica dai 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 andiamo eh Ale Ale ascolta non partire sotto parti più lontano guarda e poi fai apro piego e spingo eh capito se no se sei troppo sotto gli ostacoli li butti giù sempre vai vai e via veloci da lì eh via veloci da lì buono bravo dai Gabri tira sull'ostacolo dai tira sull'ostacolo e vai buono via via al prossimo dai Gabri mi fai la cortesia di andare con due mani a tenerla dai su te lo sai fare eh dai 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 ancora un minutino ancora un minutino chi era l'ultimo vai vai allora ancora un giro vai via 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 ancora un giro eh quando abbiamo finito Guglielmo andiamo dall'altra parte troppo basse troppo basse eh va già meglio Ale vedi che se parti più lontano è meglio eh non ti preoccupare che va bene eh buono va bene meglio queste che quelle facili eh Leon bravo dai Gabri dai Gabri dai Gabri forza 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 ragazzi perché siamo così lenti perché cade in un mio spazio dai 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 andiamo buono oh non l'ha messo giù il piede bravo Ricky bravo ma che adesso andiamo a sinistra eh così andiamo nella zona di comfort eh no stop ok stop